La cosiddetta tassa sullo zerbino, protagonista nell'autunno scorso di un'imponente campagna di protesta nazionale contro il Comune, ha assunto la nuova e imprevedibile forma di aiuto ai commercianti grazie a una delibera della Giunta Galimberti. Infatti l'imposta sulla pubblicità, nome autentico della tassa, rientra fra i provvedimenti che conseguono all'emergenza epidemiologica Covid-19, dato che la Giunta ha deciso di l'aumento del 50% in relazione alle misure urgenti da collegare al Decreto-Legge del 25 marzo. Il motivo è che l'aumento del 50% l'anno scorso era giustificato dall'articolo 3 del Regolamento Comunale, che prevede il rincaro ogni anno nei mesi tra maggio e ottobre in seguito all'incremento dei flussi turistici. L'arrivo di visitatori più numerosi faceva crescere il valore della pubblicità e delle insegne luminose, con la conseguenza di una stangatina del 50%. Il sindaco Gianluca Galimberti, nelle risposte date ai commercianti, sostenuti dagli interventi della Lega e di Fratelli d'Italia, aveva spiegato che c'era poco da protestare. Infatti in una verifica la società di riscossione ICA Abaco aveva scoperto quattro evasori. La tassa dal 2012 non sale più e costa 18,5 euro all'anno per chi espone un'insegna non luminosa fino a un metro quadrato per pagarne 37,18 se l'insegna invece è luminosa. Chi supera i 5,5 metri paga 46,62 euro se usa il neon. Dopo tanto tumulto, ora la Giunta usa lo stesso argomento ma a rovescio. Quei pochi euro all'anno, che comunque sono una tassa e vengono pagati al Comune, adesso sono diventati una forma di aiuto al commercio, che in centro storico rimane comunque in sofferenza.